bentornati oggi voglio farvi vedere un giochino carino ovvero andiamo a vedere come è possibile inserire un'immagine una foto un quadro una qualunque immagine che abbiamo già sul nostro computer all'interno di una cornice questa cornice l'ho fatta io e quindi c'è già un tracciato di ritaglio che potrebbe semplificarmi la vita ma siccome voi potreste non averla vediamo come si fa da zero su un'immagine di questo tipo è veramente molto semplice perché è sufficiente andare a selezionare lo strumento bacchetta magica andiamo a selezionare il bianco dopodiché andiamo a premere command shift i per invertire la selezione oppure selezione inversa c'è anche segnato il comando rapido una volta che abbiamo fatto questo io ho un comando da tastiera che è command option p che automaticamente mi crea una maschera di ritaglio è un comando che ho impostato io che quindi voi non avrete se volete ottenere lo stesso risultato dovete premere questo tasto che crea la maschera di ritaglio a questo punto quello che andiamo a fare è prendere la nostra foto l'immagine del quadro che vogliamo andare a inserire la prendiamo la trasciniamo sulla tab della cornice e la lasciamo andare all'interno della cornice il profilo colore a quanto pare era diverso io questo non me lo ricordavo nemmeno ma in questo caso vi dico semplicemente che va bene così perché tanto non ho intenzione di stamparla come possiamo vedere il formato delle foto è completamente diverso la foto che abbiamo qui dietro è molto più grande della foto della cornice per cui la selezioniamo e premiamo command t e andiamo a rimpicciolire il quadro in modo che la vediamo a questo punto tenendo premuto il tasto option andiamo a scalarla fino a quando non è della dimensione giusta andiamo a ringrandire andiamo a rifilarla in maniera tale che ci piaccia qui è una questione assolutamente di gusto personale io credo che potrei fare qualcosa di questo tipo è giusto per fini dimostrativi potremmo anche tenerla più grande anzi facciamo così che mi sembra più carina a questo punto quello che andiamo a fare andiamo a tenere premuto option e clicchiamo sulla nostra maschera selezioniamo nuovamente la macchetta magica e selezioniamo l'area nera per una selezione molto precisa ripremiamo opzione sopra la maschera così torniamo alla visualizzazione normale torniamo sul nostro livello e creiamo una nuova maschera in questo modo abbiamo inserito la nostra foto all'interno della cornice ora se noi compiamo delle azioni se spostiamo questa foto vediamo che stiamo spostando la foto e la maschera allo stesso tempo ricordiamo che con le maschere di livello il bianco è l'area visibile e il nero è l'area che viene nascosta vale per entrambe se noi togliamo questa catenella che cosa succede che posso prendere l'immagine e gestirla indipendentemente dalla maschera così come potrei gestire la maschera indipendentemente dall'immagine ma non è questo che ci interessa a questo punto io posso prendere l'immagine posso premere comanti e ridimensionarla ulteriormente se voglio ringrandirla avrei dovuto convertirla in un oggetto avanzato in modo da non perdere qualità ma facciamo finta che ci vada bene così ora andiamo a fare un passaggio in più andiamo a prendere una texture la trasportiamo nuovamente di qui andiamo a centrarla mi sono già assicurato che il formato coincidesse quindi mi viene facile la portiamo sotto a questo punto vediamo che l'immagine non è esattamente coerente quindi che cosa andiamo a fare facciamo doppio clic nell'area grigia intorno al titolo del livello della cornice e qui possiamo aggiungere un'ombra ora questa foto originariamente è stata scattata credo in un museo perché c'è scritto scritto il nome di un autore non mi ricordo esattamente dove l'ho scattata comunque siccome c'erano faretti che provenivano da più direzioni non è molto facile determinare da che parte provenga la luce anche se credo che la fonte di illuminazione maggiore venga da questo lato da in alto a destra per cui io posso cliccare trascinare e posiziono la mia ombra in questo modo ne aumento un pochettino le dimensioni diminuisco un po l'opacità perché non la voglio troppo forte potrei andare a inserire anche un'ombra interna in modo da dare ancora più coerenza seleziono la tab dell'ombra interna e vado a diminuire l'opacità nello stesso modo e aumentare più o meno le dimensioni vado molto a occhio ok ora se volessi per esempio rendere ancora più credibile questo dipinto potrei andare a selezionare l'immagine potrei andare su filtro stilizzazione e dipinto a olio questo è un effetto secondo me molto carino che va a simulare quella che è la grana di un dipinto vediamo che immediatamente il nostro la nostra immagine assume le sembianze di un dipinto a olio qui possiamo andare a agire su questi parametri per renderlo più o meno evidente in quanto a pennellate possiamo aumentare la scala e quindi avremo delle pennellate più grosse possiamo aumentare la la pulizia e la stilizzazione questo è un filtro artistico quindi non esiste un modo giusto o sbagliato di usarlo bisogna semplicemente imparare a usarlo secondo i nostri gusti e nel caso vi interessasse imparare a usare i filtri vi rimando alla playlist i filtri di photoshop in cui vengono spiegati tutti nel dettaglio ecco che abbiamo ottenuto un effetto dipinto che può essere o meno quello che desideravamo quello che importa però è che siamo passati da un'immagine iniziale dove era tutto slegato a un'immagine finale dove abbiamo messo insieme un'immagine di sfondo di primo piano e una cornice una cosa ulteriore che possiamo fare è andare a utilizzare i check layer per andare a stabilire se la nostra immagine è coerente anche a livello di illuminazione di colore cominciamo con il check layer dell'illuminazione vediamo che secondo me lo sfondo è troppo più scuro rispetto al nostro quadro per cui raggruppiamo questi due elementi andiamo ad aggiungere un livello di regolazione curve e lo clippiamo al livello sottostante e andiamo a diminuire la luminosità di questi due livelli in modo da renderli più vicini allo sfondo ora andiamo a spegnere il check layer ci siamo avvicinati ma abbiamo modificato anche la saturazione perché in questo modo lavoriamo su tutti i metodi di fusione invece noi vogliamo andare a lavorare solamente sulla luminosità la differenza è questa lavorando solo sulla luminosità non stiamo influenzando la saturazione adesso io credo di essere andato un pochino oltre quindi torno un peletto indietro ecco che abbiamo ottenuto un risultato abbastanza credibile abbastanza vicino a quello che potremmo avere scattando veramente la foto ovviamente l'ho fatto in maniera rapida si potrebbe si poteva gestire meglio quanto a colori ombre luci si poteva sicuramente fare un lavoro migliore però questa è la procedura base per arrivare a mettere una nostra foto una nostra immagine all'interno di un quadro si può ovviamente non applicare nessun effetto sull'immagine si può lasciare anche così com'è e rimane una foto piuttosto che un quadro quello che mi interessava farvi vedere era il procedimento completo